Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Bar Sport un Bar Sport che prosegue Marco Micheletti qui accanto a me, ciao, buongiorno anche a te Ciao Stefano, ciao a tutti Prosegue, dicevamo, nonostante la fine del campionato, la fine della Champions League la fine di quello che è stata la stagione sportiva così come abbiamo raccontato attraverso questo contenitore durante i mesi scorsi però insomma le notizie come ben sappiamo non vengono mai meno e anzi si offrono il fianco davvero tante altre considerazioni non ultime quelle che stanno accadendo nelle ultime ore e Marco io partirei dalla strettissima attualità perché siamo arrivati alla nomina di Beppe Marotta alla presidenza dell'Inter insomma un passaggio che arriva a conclusione di un traghettamento societario da Zanga al fondo offre Sì sì Stefano, infatti è del cuore degli ultimi minuti siamo arrivati qua in studio e abbiamo visto la notizia che è ufficiale Beppe Marotta diventa il nuovo presidente dell'Inter il CDA appunto ha scelto lui come erede di Zanga credo che sia forse la scelta giusta anche come paro forse anche in un momento magari un pochino buio in questo momento dell'Inter credo che Marotta sia la scelta giusta e soprattutto credo che questo sia anche forse un dire io sono ancora qui e resterò anche di più perché lui comunque va in scadenza nel 2020 Sì abbiamo avuto modo di parlarne appunto di questo triennale del contratto del Beppe Marotta amministratore delegato sappiamo bene quanto la sua figura sia stata indicata anche proprio durante il passaggio di consegne da Zanga al fondo American of Three come linea di continuità lui insieme ad Antonello che è l'amministratore delegato corporate della squadra campione d'Italia ecco era inevitabile che finisse così a tuo modo di vedere o insomma sappiamo bene quali possono essere anche i giochi di equilibrio politico e di forza che ci possono essere a livelli così alti era inevitabile che andasse così? ma credo che comunque sì si erano fatti comunque altri nomi sempre nomi italiani questo secondo me è comunque da dirlo è bello comunque avere un presidente italiano anche per una società come l'Inter che negli ultimi anni ha visto comunque la famiglia Zanga è bello comunque vedere Marotta in questa vesta credo che comunque sia il più grande primo in questi termini per lui il più grande dirigente italiano degli ultimi anni beh innanzitutto è sicuramente un riconoscimento del valore della meritocrazia cioè della capacità di essere riuscito a fare cose importanti fondamentalmente con pochi fondi a disposizione dall'altra sponda di Milano però Marco si parla tanto in questi giorni insomma è uscito anche qualche articolo di giornale che ha se vogliamo gettato qualche ombra sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic in questa fase di transizione che non si è ancora completata dopo l'addio di Pioli insomma Fonseca è ancora lì da fondamentalmente da una parte da accettare oserei dire da una parte per una parte quanto meno della tifoseria dall'altra da ufficializzare nello subiamo sì sì è vero Stefano come abbiamo parlato anche nelle vecchie puntate di Bar Sport che potete sempre ritrovare sul canale YouTube di ST News abbiamo visto comunque sia Fonseca che non è stato accettato come hai detto tu magari dalla tifoseria perché comunque magari si aspettavano i nomi magari un po' più altisonanti magari mi viene in mente Ponte che oramai è in procinto di accettare la proposta di De Laurentiis mi viene in mente anche che è un Maresca per esempio o anche lo stesso magari De Zerbi di cui si parlava tanto ma che costa comunque tanto portare De Zerbi riportare De Zerbi in Italia ma tornando comunque al discorso Ibrahimovic e Stefano non lo vedo in realtà come un vero e proprio dirigente lo vedo più come una figura che aiuta la squadra e che porta avanti magari il progetto, la progettualità di essere vincenti per me comunque Ibrahimovic lo ha sempre dimostrato di essere il vero leader della squadra che ha portato poi allo scudetto numero 19 e che si è anche tatuato poi l'ex allenatore del Milan c'è stato sulla propria pelle sì, il discorso empatia è un discorso importante la capacità di trasmettere certe motivazioni un certo tipo di approccio fai bene a sottolinearlo non so se hai visto le immagini a livello di personalità empatiche con l'ambiente che sposa la loro causa Giuseppe Murigno accolto in Turchia insomma, non ha avuto parole dolcissime nei confronti della Roma che era premio onestamente però diciamo che il Murigno personaggio ancora più che il Murigno allenatore è arrivato davvero a colpire nel segno anche nella presentazione vero, vero si parlano di cifre addirittura assurde Stefano, ho sentito parlare di 120-150 milioni per il mercato davvero un po' dura soprattutto perché è un club sì, di prima faccia in Turchia è comunque riconosciuto anche a livello internazionale, europeo però credo che comunque Murigno sì, punti a vincere comunque a riportare il campionato in casa Fenerbahce soprattutto credo che punti magari a rilanciarsi e poi magari ripuntare ad una big lui comunque ha parlato come hai detto tu non in termini proprio felici diciamo della sua ultima esperienza qui in Italia, cioè a Roma ha detto io non seguo nessun tipo di giocatore della Roma non mi interessa nessuno né Dybala, né Lukaku, né Abraham nessuno sono parole forti in realtà Stefano perché comunque si discosta molto dal passato perché lui aveva detto mi sento romano mi sento al 100% dentro il progetto Roma ho un bel rapporto con i Fritkin e invece a quanto pare questo non era sì, fondamentalmente lui ha sempre sottolineato anche il rapporto di diciamo così di feeling che ha avuto con la piazza romana non ha mancato di mandare stoccate i suoi giocatori nel corso del tempo rispetto anche al valore intrisico della Rosa in sé diciamo che effettivamente anche la dichiarazione per cui piuttosto che lottare per un quinto posto in Italia preferisco venire qui a giocarmi un campionato in Turchia insomma è stata una delle tante stilettate alla Murigno e ha lasciato un segno tant'è che siamo qui a parlarne anche noi velocemente gli altri aggiornamenti di mercato poi magari li affronteremo anche nel corso della puntata relative alle panchine c'è Tudor in questi momenti che insomma sembra nicchiare sulla possibilità di restare effettivamente a Lazio cosa ne pensi? Allora da quello che sappiamo Stefano comunque in realtà lo titolo avrebbe anche confermato però forse sono più i dubbi dello stesso tecnico che fanno nutrire questo addio di Tudor che sembra sempre più lontano dalla piazza della piazza del Lazio credo che comunque ci sarà un bel balser perché comunque vediamo sia Italiano che non è proprio sicuro dell'offerta del Bologna vediamo anche Palladino che molto probabilmente sposerà invece la causa della piazza non ci spoilerare troppi argomenti perché vorrei andare a raccontarli e svilupparli anche con il nostro primo ospite che vedo già collegato e al quale do il benvenuto Filippo Mighelli ciao Filippo ciao ciao buongiorno a tutti e grazie per l'invito allora Filippo giornalista detto stampa adesso andremo a raccontare un po' il tuo profilo soprattutto persona che sa di calcio che mastica di calcio siamo abbiamo aperto il collegamento quest'oggi insieme a Marco Micheletti raccontando quello che sta accadendo a più livelli sulle panchine di Serie A e non solo perché abbiamo fatto anche un riferimento a Giuseppe Mourinho in Turchia io con te partirei anche diciamo così facendo un recap un riassunto di quello che è accaduto nelle ultimissime ore in un ambiente che conosci bene cioè la Serie B dove il Venezia è stato promosso in Serie A al termine di un doppio confronto finale con la Cremonese ti chiedo subito al di là di quello che ha raccontato la classifica finale della Serie B è arrivata in Serie A la squadra più attrezzata per restarci? Secondo me secondo me sì penso che alla fine le promozioni siano state giuste perché comunque sia il Como che il Venezia che il Parma comunque sono tre proprietà molto ricche e che quindi oltre diciamo a riportare in Serie A piazze veramente importanti in ambito anche di vaccino il tifo Parma Piazza Storica il Como comunque ha dei tifosi importanti il Venezia ugualmente io penso che siano anche tre società che possano dire la loro e dare fastidio non dico come il Monza però sicuramente il Parma in particolare il Como che ha se non ricordo male il 65esimo uomo più ricco al mondo in presidenza come presidente e ha comunque tra i soci Henri un giocatore fast io penso che qualche giocatore interessante potrebbe arrivare anche dopo una semplice chiamata io a Brescia avevo Inzaghi e Inzaghi per portare alcuni giocatori in Serie B veramente bastava alzare la cornetta sai chiama Inzaghi già solo perché ti chiama il mister insomma già rimani impressionato e io penso che per un giocatore se ti chiama Henri se ti chiama Fabregas se ti dice che dici ti va di venire a Como la presidenza è importante io penso che sia veramente una squadra che possa fare la differenza ai livelli del Monza nell'arco magari di due o tre stagioni e il Venezia comunque ha una proprietà ricca ha fatto le cose benissimo guardate il sito i social il marketing funzionano benissimo sono veramente proprietà americana quindi sono avanti io penso che possano veramente dare fastidio e dare qualcosa in più anche a livello di immagine perché Como e Venezia a livello di marketing e di immagine danno tantissimo alla serie A con rispetto magari per piazze come Sassuolo o altre piazze che sono importantissime a livello di società però Como e Venezia e Parma è tanta roba secondo me arricchiscono davvero tanto la serie A sì assolutamente la PIL che possano garantire contesti come quelli di Como sappiamo bene anche qual è l'impegno della proprietà degli artono degli indonesiani proprietari come giustamente tu Filippo raccontavi più ricchi del calcio italiano tra i più ricchi al mondo sia puntando tanto sulla Disneyland da creare a Como perciò un progetto a tutto tondo 360 gradi un riferimento visto che è possibile nascondere tu hai parlato di Brescia ecco io ti volevo introdurre più tardi in questo ambito però giustamente sottolineiamo che tu sei stato addetto stampa del Brescia in serie B perciò insomma hai avuto trascorsi uno recenti due molto approfonditi all'interno del sistema calcio però il tuo accento da alto a tesino ci rivela anche quella che è la tua appartenenza d'origine esatto non posso evitare che non è né di Como né di Venezia quindi ecco non posso esimermi dal domandarti qualcosa su Claudio Ranieri su questa salvezza insomma del Cagliari insomma qual è stato l'impatto della tua Sardegna di questo successo allora in tanti quando commentiamo la salvezza del Cagliari la leghiamo la leghiamo a Ranieri molti dicono diciamo il 90% dice senza Ranieri questa squadra non si sarebbe salvata io penso che sia effettivamente così perché in pochi diciamo avrebbero avuto la personalità a febbraio o a gennaio di dimettersi invece lui visti i suoi trascorsi ad altissimi livelli visto che ha allenato grandissime squadre in Italia e ha vinto comunque con l'Eister una autentica impresa no? con l'Eister in Premier League e lui ha avuto l'intelligenza veramente e gli attributi per dimettersi e ha dato la scossa cioè alla fine senza Ranieri io sono convinto che la squadra non si sarebbe salvata perché stava affrontando una crisi tecnica veramente importante perché io non credo che la rosa fosse diciamo troppo brillante mettiamola così e lui ha fatto la differenza così come ha fatto la differenza Baroni col Verona cioè tanti dicono no a chi diamo la panchina cioè tutti pensano Gasperini perché Gasperini chiaramente ha fatto l'impresa delle imprese in Europa ma Baroni che impresa ha fatto cioè Baroni ugualmente a livelli di Ranieri hanno fatto due hanno proprio fatto la differenza la personalità in questo caso parliamo di Ranieri la sua personalità nel gestire infortuni nel gestire situazioni e poi anche la promozione dello scorso anno è stata Rocambo al 98esimo se non ricordo male di vari Cagliari c'era qualificato con 30.000 persone 40.000 persone allo stadio e lui ha saputo gestire perché ha fatto entrare Pavoletti lo utilizzava con intelligenza negli ultimi 15-20 minuti per gli assalti finali e lo ha fatto anche quest'anno quindi assolutamente C'erranieri e poi ha avuto e poi chiudo insomma per non essere troppo lungo ha avuto veramente anche l'intelligenza dei grandi nel lui sa perfettamente che quest'anno è stato veramente un'impresa è stato quasi un miracolo un miracolo sportivo dai e quindi lui sa che il prossimo anno sarà veramente difficile legando anche il discorso alle tre squadre promosse e del potenziale che hanno perché il prossimo anno Parma Como e Venezia forse Venezia è l'unica che sai potrebbe stare lì Parma sicuramente e daranno veramente fastidio in zona salvezza quindi lui sa che è difficile e quindi dice io voglio lasciare il Cagliari con un'impresa lasciare il Cagliari da Ranieri piuttosto che magari il prossimo anno tra polemiche o magari se le cose vanno male perché il calcio lo conoscete bene anche voi magari a gennaio lo mandano via è meglio insomma lasciare così da la leggenda no? Assolutamente che in una maniera che non sia diciamo adeguata al suo personaggio che in Sardegna in Italia io penso sia dico mitico però un allenatore che ha vinto la Premier con l'Eister e che poi va all'umiltà di andare a Cagliari e salvarlo in questa maniera io penso sia veramente un personaggio da celebrare in generale al di fuori della Sardegna un po' come Riva no? Filippo guarda hai toccato due temi importanti il primo guarda che è quello proprio del discorso dell'intelligenza del personaggio della personalità di un uomo come Ranieri è una tematica e qui mi fa gancio per approfondire questo tema che abbiamo sviluppato insieme a Marco Micheleti a cui tra poco darò la parola proprio all'interno di Tennis Mania che è il contenitore che lui segue sempre sulla playlist YouTube del canale ST News perciò vi invito come si vede anche qui di sovraimpressione ad andare a ripercorrere parlavamo in quel caso anche di Diokovic della capacità di un grandissimo di arrivare al punto di capire quando è il momento Diokovic o anche Nadal insomma di quando smettere o quando andare che è un po' il discorso che faceva Filippo relativamente a Ranieri prima di dare la parola a Marco Filippo io ti chiedo questo visto che l'hai menzionato Baroni Baroni è uno degli allenatori più corteggiati di questa di questa stagione estiva e potrebbe finire tra l'altro a Cagliari che leggo insomma esatto c'è un particolare perché è accostato appunto al Cagliari è accostato anche al Monza ci sono tanti che si contendono un allenatore io qui ti faccio la domanda da ex Ufficio Stampa ci stiamo dimenticando a livello mediatico che però Baroni come tanti altri il contratto in essere c'era fino al 30 giugno ora come si riesce in queste situazioni? Beh si deve si deve aspettare insomma certe certe notizie sicuramente iniziano a circolare perché in ogni piazza ci sono giornalisti bravi e comunque è normale che anche i giornalisti facciano delle domande ai diretti interessati magari i diretti interessati alle volte si lasciano sfuggire a qualcosa alle volte spesso il procuratore che ha interesse nel diffondere determinate voci per magari alzare o diminuire lo stipendio per generare interesse attorno a un allenatore quindi comunque alle volte è anche positivo che giri che giri la voce non certo magari per la società perché faccio un esempio magari il Cagliari voleva fare qualcosa voleva farlo sotto traccia non conosco ripeto nello specifico la situazione però magari voleva fare qualcosa sotto traccia è chiaro che magari altre società che si vogliono salvare Baroni io penso che sia un profilo a dir poco appetibile ha fatto veramente un'impresa io credo che sia un po' come Nicola doveva Nicola insomma salvare le squadre quindi quando tu ti vuoi salvare chiami Nicola quindi Baroni io penso che abbia preso questo tipo di profilo perché ha fatto un'impresa e anche con Lecce insomma è sempre stato io l'ho avuto non ho lavorato con lui ma l'ho avuto contro insomma ha vinto il campionato con noi se non ricordo male con Lecce da allenatore e quindi è sempre stato un profilo che va tra i top di serie A e bassa insomma classifica di bassa classifica di A e top di B rimane sempre noi in quel range lì magari qualcosa di più visto che è quello che ha fatto quest'anno tornando a livello di comunicazione io penso che possa magari dare un po' fastidio al calire se erano veramente vicini a concludere questo tipo di questo tipo di affare si gestisce che si annuncia chiaramente salvo rescissioni salvo accordi si annuncia al termine di contratto no? è sempre meglio così perché purtroppo o per fortuna non si sa mai alla fine si prendono degli accordi poi il giorno dopo basta una chiamata o magari la non parola di una persona perché purtroppo così come nella vita non tutti siamo uguali ci sono persone che dicono ok e poi non è così e quindi magari ti arriva l'emiro durante la notte perché è possibile ti arriva un'offerta durante la notte e cambiano cambiano le cose per quello infatti io quando stavo all'interno di un club i miei amici giornalisti comunque mi dicevano ma è fatta non è fatta guardate dicevo ragazzi prima della firma non è mai fatta quindi uno può dire qualsiasi cosa con le informazioni no? perché ripeto i giornalisti spesso e volentieri non scrivono mai non scrivono mai cavolate sono sempre ben informati giustamente però veramente può cambiare tutto in due secondi al momento della firma che magari c'è una discussione tra il presidente e l'allenatore o magari il procuratore chiede una piccola cifra in più per una commissione a un collaboratore e lì se hai un presidente euforico può saltare tutto veramente in dieci secondi quindi o che la gente non è ben visto dalla società come sta accadendo pare a uno di top allenatore a Napoli ah ok esatto o anche a Napoli dopo magari ci sono delle situazioni per dire di Lorenzo il presidente ti dice tu hai quattro anni di contratto e la gente va a dire che la parabola con Napoli è finita cioè alla fine la società ha sempre ragione perché un dipendente in qualsiasi operativo che ha quattro anni di contratto io penso che non possa andare a fare una diretta a Instagram sui social a dire che domani non si presenterà al lavoro quindi Marco Filippo tu che comunque hai vissuto in prima persona la Serie B quest'anno vediamo tornare comunque in Serie B il Sassuolo vediamo anche il Frosinone e anche la Salernitana e rimangono comunque Cremonese e Palermo credi che comunque sia una delle Serie B forse più appetibili anche con più spettacolo che ci sarà l'anno prossimo e se vedi già magari una favorita magari per ritornare in Serie A sì sì sono d'accordo allora ogni anno la Serie B negli ultimi 5-6 stagioni ha offerto sempre veramente grande spettacolo perché ci sono ogni anno ci sono delle big quest'anno ancora di più perché realmente nel Sassuolo non se l'aspettava nessuno e la Salernitana comunque è una piazza enorme anche per quanto riguarda i tifosi giocare all'arecchia è veramente sempre difficilissimo io ti posso dire che le retrocessioni dal lato della mia piccola esperienza perché comunque ho fatto 3 anni in B ma non ne ho fatti 20 però per quello che ho vissuto diciamo le retrocessioni veramente portano strascichi importanti non è mai detto basti vedere cosa è successo al Benevento cosa è successo alla Spal anche il Brescia io quando sono arrivato eravamo appena retrocessi dalla Serie A il primo anno fino a gennaio eravamo quartultimi poi alla fine siamo arrivati i settimi abbiamo fatto i playoff all'ultima giornata ma eravamo quartultimi fino a gennaio ci è voluto un cambio di allenatore cioè ci sono veramente la retrocessione è veramente difficile perché ci sono tanti giocatori il 70% dei giocatori non vogliono rimanere primo secondo ci sono degli ingaggi da Serie A che sono difficili da confermare in Serie B e terzo ti porti dietro una piazza che è sempre triste che io non allora io non penso che a Salerno o a Sassuolo ci sia un bel clima o a Frosinone che comunque è una piazza molto positiva in genere perché avete visto le dichiarazioni di stirpe post post retrocessione è stato veramente un signore e la loro serenità è dovuta anche ad un presidente che veramente qualsiasi cosa succeda riesce a trasmettere grande grande serenità quindi dico si retrocedono tre piazze importanti però è da vedere se poi staranno su io penso che quella che starà più su di tutto è il Frosinone proprio perché ha una presidenza veramente con la mente molto lucida e che comunque ha grande grande capacità anche se avevano tanti giocatori in prestito però io penso che possa fare nuovamente una grande squadra il Sassuolo oggettivamente prende grosso che è un top della Serie B e io penso che faranno un buon mercato la Salernitana non lo so perché ha una piazza un po' scontenta tanti giocatori vanno via la retrocessione è stata veramente dura perché erano retrocessi praticamente dicembre quindi diciamo che si portano un alone insomma di tristezza generale che è difficile da convertire in positività e riguardo l'ultima domanda quella di una favorita sì io penso che il prossimo anno la favorita sia il Palermo perché il Palermo ha veramente sapete no fa parte del gruppo sì quindi già quest'anno hanno fatto una campagna acquistica penso che siano la non delusi che comunque hanno fatto i playoff però io mi aspettavo che il Palermo facesse come il Palermo dominasse il campionato è successo perché probabilmente troppe non prime donne ma troppi grandi acquisti che non sono riusciti bene ad essere insomma ad amalgamarsi insieme a fare gruppo però io penso che il prossimo anno il Palermo con la piazza che ha faranno acquisti di livello sicuramente acquisti di livello io penso che sia io penso che sia la favorita poi leggevo anche da poco che forse non verrà confermato Mignani dovrebbero prendere un grande relatore comunque faranno le cose in grande quindi penso assolutamente che il Palermo la favorita nonostante le tre grandi retrocesse però le tre retrocesse a quello che ho visto io personalmente portano dietro qualche problema quindi non è detto che subito probabilmente c'era Cremonese da non dimenticare però io dico il Palermo perché è forte già quest'anno era fortissimo prenderanno due o tre forti metteranno probabilmente un allenatore ancora migliore di Mignani o magari confermano Mignani che comunque lo scorso anno ha fatto la finale playoff due stagioni fa non lo scorso la vedo proprio come favorita e sarebbe bello no? perché comunque anche il Palermo dopo che sale Parma Venezia Como salire anche il Palermo dà un fascino perché oggettivamente sono piazze che danno lustro e danno fascino alla Serie A certo lo vediamo sempre anche con gli stadi al completo o quasi insomma quando ci sono partite che riguardano appunto queste piazze tradizionalmente forti nel mondo del calcio è però un dato di fatto e lo raccontano proprio le promozioni dalla Serie B e la Serie A di quest'anno Como Parma e Venezia hanno proprietà straniere la Cremonese che diciamo insieme al Cittadella per buona parte della stagione è stata una delle rappresentanti dell'italianità al potere per quanto riguarda la presidenza delle squadre di Serie B è resa in finale però appunto è resa il fatto che credo se non ho fatto mai i conti che nella prossima Serie A una proprietà su due sia straniera soprattutto con una predominanza di americane l'abbiamo visto abbiamo parlato prima anche dell'Inter sappiamo il Milan insomma tante realtà dalle grandi alle piccole sono appunto in mano agli stranieri è a tuo modo di vedere un diciamo così un meccanismo che non presenta via d'uscita casomai ce ne fosse comunque anche bisogno prima tu loggiavi il lavoro del Frosinone ecco un modello di gestione familiare improntato alla diciamo così la gestione nostrana destinata a fare la fine del sassuolo io penso che purtroppo a livello economico in generale in Italia ci siano dei problemi quindi ci si fa prendere probabilmente dall'ottenere risultati perché comunque lo vediamo anche al Milan vincono lo Scudetto l'anno dopo non lo vincono perché comunque il Milan è arrivato secondo non un quart'ultimo e subito ci sono le polemiche dei tifosi che vogliono una squadra all'altezza dell'Inter quindi c'è tutto un inseguimento che parte dall'alto e poi arriva in serie B e non solo perché per dire anche in C Catania è la proprietà estera purtroppo io credo che è una questione di soldi lo vediamo anche nella nazionale la nazionale non partecipa a due mondiali c'è proprio un D che comunque è generale quindi siccome le società sono passate dai tifosi vogliono mantenere le aspettative della storia del club è tutto un inseguimento quindi io penso che anche le proprietà italiane possano fare bene perché per esempio la Lazio insomma la proprietà italiana è comunque non con insomma non con spese fatte bene perché comunque la Lazio ha speso ma non enormi ma hanno ottenuto comunque degli ottimi risultati perché comunque la Lazio sia in Coppa Italia si imponeva si imponeva in Supercoppa quest'anno comunque ha fatto una signora Champions League perché insomma è arrivata agli ottavi quindi secondo me non è impossibile però bisogna veramente spendere bene in questo per dire l'Inter ha una proprietà estera ma il numero uno è Marotta che oggi credo a breve diventerà presidente ma comunque il braccio è lui è lui che decide è lui che decide tutto quindi vuol dire che gli italiani ci sanno ancora fare Lottito in questo senso a sua volta è un maestro perché comunque anche quando c'era Tare veramente degli acquisti Milinkovic Luis Alberto Tipe Anderson tantissimi esempi di persone che giocatori che quando sono arrivati non si sapeva e che poi sono diventati sono diventati quello che sono diventati quindi io penso che si possa anche fare oggettivamente è difficile contrastare squadre come il City il PSG il Real che ogni anno fanno acquisti un giocatore viene pagato 50-60 milioni e mi sto mantenendo anche basso quindi comunque se si va a vedere l'11 titolare quello che costa di meno costa 70 milioni 70 milioni il campionato italiano io penso che facciano un acquisto fai un acquisto da 70 milioni il mercato è finito dobbiamo svendere dobbiamo dobbiamo smantellare qualcosa perché altrimenti non è sostenibile quindi comunque contro queste corazzate è difficile le proprietà estere in questo senso aiutano però dipende cioè a capo io ci metterei perché io penso che gli italiani sia il vero tecnico di allenatori che di dirigenti siano i migliori migliori io non vedo direttori perché basti vedere il Manchester United il Manchester United ad ogni anno spende 200 milioni di acquisti eppure non riescono ad entrare tra i primi 8 io penso che se Marotta fosse al Manchester United avrebbero già vinto due Champions League nel senso d'alta voce perché se ci sente qualcuno ci ruba l'idea ci porta via i dirigenti italiani esatto abbiamo per esempio un altro esempio di eccellenza a livello mondiale che è Andrea Berta che è il direttore sportivo dell'Atletico Madrid che è Bresciano di Orzimuovi ed è riuscito a fare dei miracoli con l'Atletico Madrid trasformandolo da una squadra che non vinceva qui e lì ha vinto la Liga è stata l'unica squadra che è riuscita a mettere sotto il Real Madrid in questa stagione poi ovvio è difficile come fai a vincere una Liga è difficilissimo contro una squadra che già hai campioni che hai Pappé ti prende Hendrick ti prende forse Davis è oggettivamente difficile però io penso che i dirigenti italiani siano veramente io non penso che abbiano che abbiano che abbiano uguali se avessero le disponibilità quindi ti dico sì si può fare dipende anche dagli obiettivi purtroppo perché non è più il tempo delle semifinali di Inter-Milan e dall'altra parte Juventus e Real Madrid come era per esempio nel 2002-2003 dovevamo il top del top purtroppo non si può più fare quello quello che è successo due stagioni fa col Napoli Inter e Milan siamo tutti d'accordo che è stato non un caso però una giusta combinazione anche di determinate cose però non siamo più quel calcio lì il prossimo anno ce ne sono cinque cinque in Champions League chi è che dice che è una di quelle cinque favorita per la Champions? nessuno ai blocchi di partenza invece di qualche anno fa dicevamo Juve, Inter e Milan possono competere con Real e Barca quindi a livello di economico è difficilissimo si può inventare qualcosa a vista la bravura dei nostri diritti nel fare come ha fatto l'Inter che è riuscito ad arrivare in finale grazie a Marotta e a Simorinzaghi chiaramente però l'artificio è Marotta che ti va a prendere Zielinski a parametro zero Taremio a parametro zero insomma quindi ti dico oggettivamente è difficile fai bene oggettivamente a livello economico oggettivamente è difficile purtroppo non bisogna mentire penso che è difficile dire che un Inter e una Juve possono competere con PSG e Reale e oggettivamente non è la verità però come fai? è stato il sborso economico Marco vero vero no Filippo tu comunque elogi comunque gli italiani l'italianità anche in giro per il mondo con l'Atletico Madrid ma appunto parliamo di Italia comunque vediamo l'Europeo avvicinarsi sempre di più vedi comunque la nazionale di Spalletti tra una delle candidate magari ad aggiudicarsi di nuovo e di confermarsi nuovamente campioni d'Europa o vedi comunque altre magari favorite e se davvero Scamacca può essere uno dei traghettatori della nazionale di Spalletti Spalletti allora qui con le dovute differenze ma torniamo praticamente al discorso di prima perché io prima ho detto che i dirigenti e gli allenatori italiani fanno sempre la differenza ultimo esempio anche Maresca che è diventato un nuovo allenatore del Censi poi vedremo però intanto intanto c'è Ode Zerbi che nell'ambito insomma di grandi club parlando di europeo io penso che noi abbiamo in nazionale un allenatore clamoroso un allenatore clamoroso che ha fatto un miracolo con il Napoli grazie alla sua competenza insieme a quella di Giuntoli quindi sempre al binomio dirigente allenatore io penso che come nei club la nazionale non abbia singoli che possano competere con la Francia che possano competere con l'Inghilterra l'Inghilterra davanti gioca con Bellingham la Francia gioca con Dembélé Mbappé insomma torna anche Kanté se non ricordo male quindi campioni d'Europa gente che hanno campioni del mondo gente che ha avuto esperienze a livelli enormi però non si sa mai perché comunque noi abbiamo secondo me un allenatore che è fortissimo non solo secondo me chiaramente è abbastanza chiaro chiaro a tutti Spalletti sia penso la migliore la miglior scelta il miglior allenatore che ci possa essere per la nazionale e quindi la speranza è che Spalletti unito ai giocatori che ha già avuto a Napoli a qualche giovane molto forte che comunque noi abbiamo magari riesce a riattivare a farci vedere il chiesa di un tempo a valorizzare ulteriormente Scamacca anche la scelta di Donnarumma capitano io penso che sia una scelta proprio a livello psicologico perché lui sa che Vicario è praticamente a livelli di Donnarumma ma lui vuole dare importanza con questa scelta a un giocatore che gioca col PSG a un giocatore che ha vissuto grandi palcoscenici che ha l'esperienza in determinate occasioni anche nei rigori ha dimostrato in passato Donnarumma nelle grandi occasioni veramente di essere di trasformarsi in quello che può essere Buffon a tratti dicevano non ha magari la continuità di Vicario però ha dei picchi da se mettiamola in termini di 9-9 e mezzo a partite magari da 4 europeo nelle grandi occasioni ha sempre dimostrato di essere fondamentale quindi dico Spaletti è la migliore scelta che si possa avere le ambizioni dell'Italia l'Italia arriva da campione d'Europa io penso che possa dare fastidio e come per i club io non credo che l'Italia possa essere considerata favorita perché oggettivamente la Francia l'Inghilterra non tanto la Spagna perché la Spagna non è più la Spagna di un tempo comunque io non penso che l'Italia debba invidiare Morata per esempio perché Scamacca è veramente una signora punta un signor attaccante resta il fatto che i calciatori italiani come Scamacca non riescono più a fare l'esperienza che i bomber di un tempo facevano in Europa perché Scamacca non ha tutta questa esperienza fino allo scorso anno giocava insomma in squadre che non facevano insomma non ha l'esperienza di un Morata però io non penso che a livello di singolo lo dobbiamo invidiare quindi dico l'Italia se la può giocare grazie a un allenatore strepitoso secondo me e grazie comunque al nome non dimentichiamoci che anche gli altri quando affrontano l'Italia non sono contenti e arriviamo da campioni d'Europa e anche con Mancini non eravamo favoriti quindi io guarda a conclusione di questo tuo ragionamento prima di lasciarti andare sottolineerei questo aspetto se siete d'accordo ne emerge l'abbiamo fatto a più livelli durante la chiacchierata di quest'oggi quel concetto di Italian Do It Better che voglio dire si può beh sì oggettivamente non ce li hanno in tanti quattro mondiali ecco perciò a livello di allenatori anche di singoli giocatori comunque sei lì a giocartela io ti chiedo questa italianità visto che durante le precedenti puntate di Parasport che ci hai seguito lo sai ma non ho la presunzione di chiederti questo però ne abbiamo parlato della pedalata più lenta del mondo del wrestling del dodgeball di tante discipline fuori dal contesto ordinario tu so per diciamo così chiudere il cerchio con questo concetto di italianità che hai assistito di recente a un'esperienza che io seguo non ho mai guardato dal vivo però seguo perché mi ha sempre incuriosito che è il calcio fiorentino dico bene ok e allora proprio in chiusura bellissimo ti chiedo di raccontarci questo sport così cruento così vero così puro da cui si dice che nasca il calcio altro che gli inglesi diciamola tutto allora io insomma ho avuto come te la prima volta prima volta perché ero incuriosito non ho mai avuto il tempo purtroppo e ho detto prima o poi prima o poi ci devo andare allora con un gruppo di amici era anche la Dio celibato insomma del mio miglior amico quindi abbiamo detto lì dobbiamo regalare un'esperienza che si ricorderà alla fine è un qualcosa di veramente unico posso dirti alla fine è veramente violento cioè io ho visto dei colpi io penso che se lì vada una persona normale che dice voglio partecipare per fare un'esperienza io non so se al termine potrà raccontarla perché è veramente devastante cioè si vedono dei colpi io ho visto veramente un calcio volante ricevuto qui al collo di un calciatore che poi si è rialzato dopo un calcio qua si è rialzato e è andato ha fatto il punto cioè io probabilmente mi avrebbero portato la flebo o direttamente i fiori cioè perché era veramente come posso dire bellissimo perché lì vedi l'attaccamento alle tradizioni di una città vedi veramente un coinvolgimento impressionante però devo dirti esperienza esperienza clamorosa è difficile perché io penso che di lì non ci siano calciatori ma ci siano ex regbisti o veramente ex professionisti o professionisti ancora insomma in attività che facciano arti marziali a livelli proprio importanti perché è difficilissimo cioè anche durante insomma ci sono dei confronti tra i calciatori anche durante il campo cioè uno dice fai gol nel calcio nel generale nello sport c'hai un momento di pausa invece di lì nel momento del cambio campo perché lì ogni volta che fanno gol c'è il cambio campo anche durante il cambio campo è anche l'opportunità per tirare certi due scappellotti che mai non guastano quel contesto quindi è veramente bellissimo è molto pericoloso io ho detto secondo me qua ci scappa spero di no però nel senso vedi delle robe bello coinvolgimento l'attaccamento dalla città turisti da tutto il mondo ma veramente vedi anche la maggior parte l'80-90% sono fiorentini o comunque persone che sono fanno parte del quartiere di riferimento quindi è un'esperienza che veramente posso consigliare perché non la vedi da nessuna parte la puoi consegnare ovviamente da osservatore perché da praticante no no ma assolutamente assolutamente no no partecipante è meglio meglio vederselo belli tranquilli da lei io sapevo tu che stessi punti volevi candidare l'anno prossimo sì assolutamente ero indeciso tra quello il carnevale di Ivrea però tra le sul caso adesso vedremo come guarda consiglio gli azzurri non peraltro perché poi mi sono anche documentato sul palmarès sono la juventus del calcio del calcio fiorentino in termini di titoli chiaramente e quindi consiglio loro perché almeno se devi partecipare rischi di prenderne un po' meno in 10% di sopravvivere perfetto allora so già come muovervi Filippo grazie davvero del tuo intervento della tua competenza e anche di questa piacevole resoconto della tua esperienza al calcio fiorentino Filippo Migheri grazie ancora grazie grazie a voi e grazie insomma per l'invito grazie mille buon lavoro grazie ancora speriamo di ritrovarci presto e di chiederti insomma cose nuove rispetto alle tue future esperienze professionali grazie Filippo grazie a voi Marco questo piacevole racconto con Filippo Migheri insomma ci ha sottolineato una volta di più insomma l'abbiamo detto durante il corso della chiacchierata che abbiamo avuto con lui quale sia il know out insomma la competenza dello sport italiano del calcio nella frattispecie vedi che ci sono delle radici che affondano nel nostro passato secondo te visto che abbiamo affrontato con lui il tema appunto di queste proprietà stranieri c'è sempre la consapevolezza di questo background di questa storicità di questo senso di appartenenza o capita a volte che ed è successo magari anche di recente con qualche tifoseria che ha contestato certi atteggiamenti diciamo così non proprio sensibili alla storia c'è un po' moscostamente beh mi viene in mente un riferimento che comunque ha fatto anche Filippo prima lui ha parlato anche dello United mi viene in mente comunque Sir Alex Ferguson e tutti parlano comunque di un allenatore che non c'è mai stato dopo di lui in realtà comunque mi viene in mente Mourinho che hanno vinto comunque Tenaga in questo momento non sta sicuramente ricoprendo il ruolo che sicuramente Ferguson ha dato lustro alla sponda rossa di Manchester credo che comunque avere comunque delle radici o comunque un proprio simbolo da portare avanti come magari mi viene in mente l'Inter o come magari mi viene in mente appunto lo United è bello perché comunque ti rappresenta in giro per il mondo ti rappresenta anche comunque a livello sia internazionale ma anche soprattutto magari a livello nazionale perché comunque tutti sanno mi viene in mente per esempio l'Inter tutti la chiamano la pazza Inter tutti tre ne conti perché ha fatto anche togliere l'Inno a San Siro quando era arrivato nel Razzurro perché diceva bisogna essere razionali bisogna perseguire il risultato senza lasciarsi andare a voler pindare però comunque è giusto avere un qualcosa che riconosce sia la squadra ma soprattutto anche magari la presidenza abbiamo parlato comunque anche magari di Marotta o comunque dell'italianità è bello comunque portare avanti una propria idea e un proprio barco addirittura perché magari i club in questo momento stanno diventando dei veri e propri marchi tu devi vendere è un'azienda il club stesso perché comunque entrano tanti soldi escono tanti soldi ci si investe tanto e si investe comunque tanto tempo perché comunque è un lavoro che ti prende dalla mattina alla sera 24 ore su 24 ore Marco in attesa che si colleghi il nostro secondo ospite che sto cercando di rintracciare nel frattempo io ti chiedo visto che abbiamo parlato anche con Filippo in precedenza della nazionale quanto impatta il fatto che Acerbi prima Scaldini poi erano stati costretti ad alzare bandiera bianca e si è arrivato Gatti è un qualcosa che rischia di al di là del valore intrisico del giocatore in sé di scardinare qualche equilibrio che magari Spalletti aveva in mente tu sicuramente l'Italia perde due pedini importanti mi viene in mente comunque anche di Lorenzo si parlava che non era forse al top della forma è brutto Stefano perché neanche i blocchi di partenza dell'europeo perdere due pedini importanti perché comunque credo che Spalletti aveva il blocco Inter da schierare comunque all'europeo quindi è difficile comunque rimpiazzare un giocatore magari come Acerbi sicuramente Gatti lo rimpiazzerà in ottimo modo perché lo abbiamo visto essere un titolare inamovibile anche la squadra di Allegri quest'anno e ha comunque giocato bene in realtà Gatti nonostante magari le critiche che ha ricevuto anche dai tifosi bianconeri dato che loro sono stati abituati bene diciamo i bianconeri perché comunque mi viene in mente Bonucci mi viene in mente Varzagli Chiellini quindi comunque Gatti sta ricoprendo comunque un ruolo importante nella vecchia signora è difficile però Stefano comunque ripartire con un nuovo innesto perché comunque tu magari hai un'idea di gioco di stile che devi comunque cambiare adattare al giocatore magari comunque Gatti non è abituato in una difesa 3 a Cerbi Darmian di Marco sono abituati comunque a avere questo stile di gioco questo tipo di approccio alla partita Gatti comunque si dovrà impegnare e spendere per Spalletti e credo che comunque lo farà in modo onesto e in modo giusto vero Marco prima di portarti su altri lidi perché con il nostro secondo ospite andremo a parlare innanzitutto di mondo dei pedali però sto cercando di rintracciarlo e credo che spero possa collegarsi tra poco io inevitabilmente ti vorrei chiedere di quello che sta accadendo abbiamo accennato Tennis Mania il tuo programma che ricordiamolo andrà in onda questa settimana torna questa settimana torna perfetto però siamo nel pieno dell'errore spiegaci un attimino qual è stata l'illusione dai italiani che si poteva avere nella speranza di vedere si era il numero 1 cosa che non è stata al momento perché perché ieri sera Novak Djokovic comunque è riuscito a portarsi a casa una partita al quinto set contro Serundola è stata una partita Stefano in realtà come ha detto Sinner che non riusciva a dire roller coaster quindi montagna russa è stata una vera e propria montagna russa perché inizialmente Djokovic sembrava in completo controllo della partita poi all'inizio del secondo set ha avuto un vero e proprio infortunio dopo una scivolata per chi magari non è molto avvezzo alla terra battuta o comunque alla terra rossa sulla terra rossa si tende tanto a scivolare per magari sprecare per sprecare meno energie e Djokovic comunque si è reso protagonista di una scivolata che purtroppo però ha visto infortunarsi il tennista serbo al ginocchio lì in poi è cambiata completamente la partita l'argentino è salito ed è riuscito a portarsi due set sopra e in quel momento Stefano tutti pensavano che fosse finita l'Italia in realtà stava già esultando perché comunque anche nel nel quarto set se Rundolo conduceva lui era 5 pari servizio di Djokovic 15-40 quindi aveva comunque una palla per andare 6-5 e poi servire e far rendere poi Gianni Xiner numero 1 del mondo così non è stato Djokovic ci ha dimostrato di essere ancora il numero 1 al mondo io credo che comunque a Djokovic diano il copione perché non è normale che in due giorni a 37 anni ha fatto 4 ore di partita ogni giorno e entrando al quinto set è bello perché comunque Djokovic sta dimostrando di essere ancora il numero 1 del mondo e sta dimostrando di essere comunque il numero 1 Danno ti chiedo questo da tu che sei esperto e anche praticante di tennis danno la misura proprio questi aspetti di cui stai parlando perché tante volte parlavamo prima di Donnarumma del gesto da 9 piuttosto che dal 4 che ti bilanciano un po' una carriera però io ti chiedo è proprio questa appendice finale di carriera quando ormai tutti ti danno per agonisticamente morto che vanno a come dire mettere la ciliegina su quello che hai fatto negli anni precedenti e dare un valore diverso a tutto il resto della tua esperienza sportiva credo che ci sia comunque una forbice che si apre perché comunque da una parte vediamo Djokovic che sta dando veramente forse gli anni migliori alla fine della sua carriera io credo che comunque dai 35 anni in poi abbia dimostrato di essere veramente il numero 1 nel mondo e di essere forse il più grande di tutti i tempi escludendo comunque Borg Mech mi viene in mente anche Roger Federer e dall'altra vedo un'altra parte della medaglia quella di Rafael Nadal perché un giocatore che è sì alla fine della sua carriera ma che magari non è riuscito ad essere al 100% in in forma sì è riuscito a vincere degli slam comunque a 35 e 36 anni quello lo voglio ricordare perché comunque Nadal compie 38 anni ha compiuto 38 anni mi pare ieri tra l'altro quindi comunque auguri a lui però vedo che comunque Djokovic ha quella voglia quella grinta da ragazzino lui urlava come un matto ieri sembrava davvero vedere un ventenne quasi giocare a tennis è l'esperienza di cui si parlava di quella capacità di maturare magari negli anni è anche qualcosa che ti permette di sopperire a un atletismo che inevitabilmente viene sì credo che comunque nella testa di Djokovic o comunque anche di un giocatore che sta comunque pensando di appendere la racchetta o magari gli scarpini al chiodo ti vengono in mente comunque il fuoco dentro ti viene ancora di più credo allora io nel frattempo do comunicazione ufficiale ma lo ringrazio perché credo che ci stia seguendo che Giuseppe Figini che era il nostro secondo ospite ha delle difficoltà di collegamento lo salutiamo anche se non riesce a risponderci contiamo di averlo prossimamente qui con noi ma per riallacciarmi al tuo discorso prima di avviarci poi verso anche la conclusione della puntata questo aspetto di valorizzazione delle proprie risorse delle proprie capacità una consapevolezza diversa del proprio potenziale è quello che in un altro sport e qui ti porto su due ruote sì ma al motore rischia di concretizzare Mark Markets il prossimo anno visto che è stato ufficialmente viaggiato dalla Ducati e tanto a Bagnaia guarda Stefano stavo venendo qua e sentivo la radio appunto gli argomenti motociclistici appunto come tutti sanno abbiamo visto comunque trionfare fare una bellissima doppietta al Mugello Bagnaia e la Ducati è stato davvero bello comunque rivedere sul caderno più alto del podio Bagnaia soprattutto anche dopo intanto vediamo Formula GP che anche questa è disponibile sulla playlist del canale YouTube la potrete vedere domani in diretta scusa Marco che ti ho interrotto certo Stefano e comunque abbiamo sentito appunto stamattina attraverso i colleghi di Radio Sportiva dire che è stato quasi un affronto ai danni di Martin perché comunque Martin lo ricordiamo corre per Pramac Pramac che è una diciamo è un team a parte della Ducati cioè non è il team ufficiale Ducati ma è un team satellite privati quindi è brutto forse anche perché comunque Martin credo che sia uno dei contendenti al titolo credo che possa vincere anche diversi titoli e in questo è stata una scelta coraggiosa però quella della Ducati perché vai a scommettere su un Marquez che giovanissimo più non è a discapito di un suo connazionale che l'anno scorso si è giocato il mondiale fino all'ultimo però Stefano a questo punto mi viene da dire è lo stesso pensiero che ha fatto la Ferrari credo che vogliono più che altro far crescere il marchio che in realtà vince perché comunque un campione lo vedo già sia in Ferrari sia in Ducati uno è Leclerc e l'altro uno non ha vinto un titolo mondiale Bagnani ha vinto di uno però credo che comunque sia rilanciare ancora di più il marchio anche se sicuramente Ducati a livello di marketing ti interrompo di nuovo tu pensi sia più opportuno per una casa che può essere Ducati o Ferrari andare a investire su un campione già celebrato ma dico a fine corsa ma quasi della propria esperienza piuttosto che vincere con qualcuno su cui tu hai avuto il coraggio di scommettere per me Stefano è difficile da rispondere a questa domanda no non c'era anch'io la risposta ti chiedo la tua opinione allora tutti poi ci prenderebbero per matti nel dire avete visto magari Hamilton vince il mondiale o magari Marquez vince il mondiale con la Ducati non abbiamo la palla magica da dire che succederà questo io me lo auguro perché comunque vedere Ducati o Ferrari vincere con due grandissimi del mondo delle corse è davvero un successo anche credo a livello di dirigenziale abbiamo parlato comunque anche con Filippo a livello di dirigenziale che anche qui in Italia stanno facendo davvero dei grandissimi lavori comunque portare Hamilton fare Mark Marquez in una casa italiana è un lavoro credo di altri tempi allora facciamo una cosa prima di lasciarci confondiamo le idee a chi ci ha seguito perché abbiamo detto giustamente che abbiamo lasciato intendere che la valorizzazione delle competenze anche dell'usato sicuro soprattutto in quest'ultima fase con un Hamilton con un Marquez o quant'altro rischia di essere più immediatamente fruibile anche a livello di benefici marketing da parte delle case con Giuseppe Figini avremmo parlato inevitabilmente di ciclismo io dico Giro del Delfinato si sono rivisti due attesissimi campioni che insomma hanno mancato tutti gli appuntamenti di corsa su strada durante la primavera come Vingegaard come Venepul come insomma adesso ci sarà anche Ciccone pronto a riprendere un po' lo scettro di rappresentante del ciclismo italiano però ci avviamo verso un Tour de France ormai non così lontano con un giovanissimo ancora assoluto favorito che è Tadej Pogacar sì Stefano l'abbiamo visto comunque anche protagonista al Giro d'Italia io faccio una premessa Stefano io non sono un grandissimo esperto di ciclismo però faccio anche questo per te e per gli appassionati di bar sport però comunque credo che ci sia anche comunque dei vari ciclisti che stanno tornando anche in vista del Tour in Francia credo che comunque in questo momento Pogacar sì non aveva nessun tipo di contendente al Giro d'Italia però la maglia rosa è sempre stata dal primo giorno dal secondo giorno esattamente quindi è stato anche un Giro d'Italia alcuni ho letto e ho sentito che l'hanno anche definito forse un pochino brutto non c'è stata mai una vera e propria lotta magari alcuni si aspettavano comunque altri vincitori però è bello comunque celebrare un grandissimo campione come Pogacar però se dobbiamo parlare di chi vede favorito per il Tour de France chiaramente lui sappiamo bene che ha nel mirino anche il prossimo mondiale è un po' più lontano l'ipotesi per sdoganare un concetto calcistico di triplete perché la Welta credo che non sia attualmente nei suoi programmi Marco abbiamo parlato di tutto e di più siamo arrivati in conclusione del tempo che avevamo a nostra disposizione speriamo di poter rimediare presto e parlare con qualcuno che ci possa raccontare anche un po' più da dentro come appunto Igini a cui rinnoviamo se non altro ringraziamento per la disponibilità che ci aveva dato ringrazio nuovamente Filippo Mighelli per essere stato con noi nella prima parte del programma ringrazio naturalmente te io ringrazio te Stefano e allora noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Balsport arrivederci